Questa era un'analisi della partita? Un'analisi della partita e ti dico che comunque non devo rimproverare niente ai miei ragazzi. Hanno tenuto testa a una squadra sicuramente forte, soprattutto sotto l'aspetto fisico, con comunque anche grande qualità. Quindi rimane il rammarico, rimane l'amare in bucca perché trenta secondi prima del gol preso abbiamo avuto quell'occasione grandissima con Duccio, con degli innocenti. A volte il calcio è questo, gli episodi ti condannano nel bene e nel male. Però non ci dimentichiamo che l'Inter dal settantesimo in poi ha cambiato marcia, ha iniziato a mettere questi palloni alti dove magari noi fisicamente arrivavamo qualcosa in meno e alla fine purtroppo hanno trovato questo gol. Con dispiacere ma con molta consapevolezza adesso la Youth League? Sì sì, sono andato dentro dai ragazzi, ho detto a testa alta perché comunque non deve assolutamente portarci negatività o magari avere delle scorie per questo pareggio alla fine, ci mancherebbe. È successo spesso anche a noi di far gol negli ultimi secondi, ultimi minuti di una partita e oggi è successo a sfavore. Sono quelle situazioni che nel calcio ci possono stare. Magari con un po' più di attenzione, non far arrivare questa palla così libera da farla cacciare nell'area di rigore. Magari proprio gli ultimi dieci secondi quando il portiere ha battuto la rimessa dal fondo e anziché far giocare questa palla libera su un giocatore avversario, potevamo stare quei 20-30 metri più su. Forse è l'unico pelo nel luogo, però non posso rimproverare niente alla mia squadra, che secondo me ha fatto una partita molto importante contro una squadra forte. Appuntamento a mercoledì prossimo al Castellani con Don Zalzi. Sì, adesso abbiamo l'obiettivo mercoledì contro il Monzale, la partita di ritorno, ci giochiamo questo passaggio del turno e ripeto, ragazzi testa alta già da domani mattina, si prepara la partita nel migliore dei modi di mercoledì.